Giacomo, sei comodato? Dove? Barman! Dite? Due caffè Ma non sono troppo per voi? Ma no, uno è per me e l'altro per lui Ma al bambino non fa male il caffè Barman, fatevi i cazzi vostri Scusate, ma mi pare che questo mi metti i pazzi a nascondere, signor Cocozza Cocozza o cazzo! E ci siamo fatti la croce Ma che ci saranno con me? Cosa? 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 Ma mi hai fatto una bozzetta? No! Mi hai fatto un'altra? No! Ho capito! E' la peperonata! Ah! No, no! Aglio, olio e peperoncino! Ah! Se sento! Ah, fu che gosse! Flamma! Ma mia! Fu lì! Fu lì! Ma mia! Ma mia! Ma mia! Fu lì! Tch